Poeta, scrittore, fine conoscitore del suo territorio, espressione del suo tempo, Raffaele Fraticelli è stato un figlio della sua città, Chieti, ma anche uno dei suoi padri culturali. E la città gli rende l'omaggio dovuto, celebrando il centesimo anniversario della nascita con una serie di appuntamenti lungo tutto l'arco dell'anno. Conferenze, letture pubbliche, borse di studio, targhe e incontri nelle scuole sulla figura del poeta, simbolo della teatinità. È bastato sussurrare, è un appuntamento in ricordo del centenario di papà che abbiamo ricevuto per la verità entusiasti adesioni a questo progetto. Lo ricordiamo intanto molto, molto attento alle esigenze degli altri. Una delle frasi che lo contraddistingueva da sempre è stato «Ie machine contre», questo suo andare incontro alle persone e quindi aprirsi alla solidarietà, al contatto con gli altri. Credo che sia l'ascito più grande dal punto di vista morale e soprattutto di ispirazione per noi figli, per ciò che si può rappresentare nei confronti degli ultimi, dei diseredati, di coloro che soffrono. Questo spirito di accoglienza ce lo ha lasciato e lo portiamo con noi. È il ricordo più bello e l'insegnamento più importante che ci ha lasciato. Lui è un teatino puro dove questo aggettivo indica non solo i Natali a Chieti ma anche il suo senso di appartenenza che è stato sempre vivo fino alla sua morte. Tant'è che possiamo dire che il suo nome è una specie di alter ego della città stessa. Quello che mi premi di più è portare il suo insegnamento e la sua opera nelle scuole affinché questo artista riconfermi e risottolinei la sua attività di ponte tra generazioni. Non tanto per la conoscenza del dialetto abruzzese, Chietino in particolare, perché sul dialetto in genere si sta dando molta importanza per il senso di appartenenza di un popolo e di un territorio, quanto per il fatto che l'artista trasmette sempre la volontà alle nuove generazioni di fare di più e meglio. Grazie.